Now, say my name La vostra scelta, quindi decidiamo noi quando darceli Io per esempio mi sa che gli tutti si siamo fine quindi non lo so Luca Zerla ci chiede Daryl imita Xenic imita Daryl Diccio io Questa è Xenic Bene ragazzi siamo in grado a serventurare il nostro video canale Ma questo è una pera Si è fatta molto male la pera perchè non so di segnare sinceramente Però si è una pera, cioè si capisce più o meno E Santertelli ci chiede Dite tre volte velocemente Dai il pane al cane pazzo, dai il pane al pazzocane Dai il pane al pane pazzo, dai cazzo Dai il pane al pane, dai il pane al pane pazzo Dai il pane al pane pazzo, dai il pane al pazzocane Dai il pane al pane cazzo Dai il pane al pane pazzo, dai il pane al pane pazzo Dai il pane al pane pazzo, dai il pane al pane pazzo al cane pazzo dai il pane al pazzo cane dai il pane al cane pazzo dà il pane al pazzo cane dai il cane al cane dai il pane al pazzo dai il pane al pazzo dai il pazzo dai il pane al pazzo oh porca troia dai il pane al fantasi dai il pazzo cane Alex Matteo ci chiede chi ti vuoi Dio io adesso sono qua chiedi Vincenzo Scicutella ci chiede Ceretta ai peli poi non so perché pubblici pubblici censurato censurato per me la parola cia comunque arriverà un video il genere con la ceretta, fare con ogni goal una ceretta forse ne devo dire perché poi ce lo copiano però vabbè sappiate che se qualcuno lo fa poi non l'abbiamo copiato perché abbiamo detto prima esatto ma non sarei conquistata bandierina messa non sarai filipubici la ceretta non mette in culo proprio allora Arendt e Piero Puglielli ci chiede rispondo a lui per rispondere a tutti perché se non vi ha tante domande di questo genere saremo a qualche evento come ho detto anche sul blog che avevo fatto mercoledì, saremo a qualche evento sia a Romics sicuramente e non sappiamo se saremo a King's Week ma un buon 80% che saremo a King's Week lui ci sarà ci sta comunque probabilmente uno di noi due ci sarà e probabilmente quell'uno sarò io no vabbè non è detto dai comunque qualcuno ci sarà Aldo Pagani ci chiede se possiamo mettere questa domanda a caso nel video no se Pagani ci chiede chi legge e insulta l'altro che sta a legge solo quindi sei un coglione guglione Romani ci chiede per un minuto fate a gara chi dice parole più strane magari non un minuto però però non fatti diciamo due tre parole strane che ci hanno in mente Cenozoico a me pericardite tracheotomia accalacchiacani eiaculazione Alessandro Ferragi che ha dato un voto a testi da 1 a 10 secondo me un bell'otto se lo prende si ho'otto otto e mezzo è un gg è proprio un gg ma creative di nerea ci chiede gag a ma pure scopo ho d'accordo davide di voce ci dice non mi viene in mente nessuna domanda è non ma tranquilli tomco una Ruudel apprezzate mentre aspettiamo Francesco Corcione ci chiede quando face even one double five 팔�leri l'an Noi vorremmo fare una serie su questo Però non sappiamo se vi piace Quindi scriveteci nei commenti se vi può piacere E continueremo proprio Una serie con il tapirulan Umberto Nicolella invece ci chiede Fate la blindfold challenge Siamo a due Allora La blindfold challenge noi la facciamo Se questo video arriviamo a 2500 mi piace Sbocco Non appena questo video raggiungerà 2500 mi piace faremo la blindfold challenge Boom Per questo fuck è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Bella Dai veloce 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 Mamma mia questa è brutta A posto Quella sul collo è una brutta Bella Bella Ciao Ciao